Ciao a tutte e tutti, episodio 18 della terza stagione di Capsule Film per le generazioni future. Siamo già a 18 e siamo alla quarta tranche di questo percorso che abbiamo iniziato insieme qualche mese fa e ci ha permesso di guardare e riguardare insieme un sacco di bei film. Ian e Barley sono due fratelli orfani di padre in un mondo dove la magia non esiste più. Ma saranno proprio loro a riportarla. Onward è un film di animazione del 2020 ed è anche e soprattutto uno dei miei film animati preferiti di sempre. Sarà per gli argomenti, sarà per come sono narrati, per me è un vero e proprio capolavoro a partire dal titolo. Onward, oltre, andare oltre, guardare oltre. In spagnolo, per il mercato in spagnolo, si chiama Unidos, uniti. Sempre bello, bellissimo, mi piace un sacco. Questo film ha un cast vocale spettacolare, composto da Tom Holland, Chris Pratt, Octavia Spencer, Giulia Dreyfus, Giulia Lewis Dreyfus, scusate, fra gli altri. I personaggi di Onward sono veramente tutti belli, splendideamente sfaccettati, profondi. Si ride, si piange. E' un gran film che io trovo proprio bello, proprio perché ha tante sfumature. Può essere apprezzato dai bambini, ma anche degli adulti. I bambini ridono laddove magari ogni tanto gli adulti si fermano e pensano. Partiamo dal fatto che, a parer mio, non sempre la Pixar, ma soprattutto la Disney, fa lavori eccellenti. Specialmente quando cerca di seguire il mercato più del cuore. Ma Onward invece segue il cuore e ce n'è veramente tantissimo. Il set è la sua storia, è un mondo abitato da elfi, gnomi, fate, folletti, ma che vivono esattamente come noi umani. Le fate sono motocicliste, per capirci, e non sanno volare. Gli elfi non conoscono la magia e via dicendo. Ian è un adolescente che patisce molto la mancanza del padre e si sente un intellettuale in un mondo di persone grevi, che non lo possono comprendere per evidenti limiti. Potevo riassumere tutta la frase, è un adolescente, ma devo garantirvi un minimo di minutaggio, e quindi uso molte parole. Ma soprattutto il vero problema di Ian è... sono queste persone grevi che vengono rappresentate in toto proprio da suo fratello, con il quale non riesce ad avere un buon rapporto, perché lo trova una persona stupida, un fallito, una persona che perde tempo, mentre lui avrebbe tante aspirazioni, vorrebbe diventare qualcuno, vorrebbe... si sente molto più intelligente della media, soprattutto di suo fratello. E... è un adolescente, lo abbiamo detto. Per il suo compleanno riceve una lettera da parte del padre e scopre che il suo papà aveva riscoperto l'antica arte della magia e gli ha donato uno scettro magico col quale riportarlo in vita per un giorno intero. Il problema è che Ian non è propriamente bravo nel seguire le istruzioni, e così si ritrova solo con un mezzo padre, la metà inferiore del corpo, per esattezza, mezzo busto e gambe. Per terminare l'incantesimo necessita però di una pietra magica, e nella narrazione della storia vedremo come lui si metterà alla ricerca di questa pietra per poter finalmente completare l'incantesimo e riabbacciare il padre. Homeworld è quindi un film che parla di famiglia e di quanto la perdita di un familiare possa farci sentire persi nella vita, ma ci mostra anche un altro lato della medaglia, ovvero che la famiglia è un insieme di persone che si amano, a prescindere dai ruoli, e ancor più che perdere qualcuno di un importante non significa che questa persona non sarà più nella nostra vita, perché la sua esperienza di vita farà sempre parte di noi assieme a quello che abbiamo costruito insieme. Ho scelto questo film per ricordare a me stesso e a voi che mi ascoltate l'importanza di imparare ad amare le persone, perché, diciamoci la verità, i più grandi traumi e problemi ce li hanno causati le nostre famiglie. Lo dico spesso, io dico spesso, se è un problema è colpa di tua madre e se non ti va di dare la colpa a tua madre, dai la colpa a tua nonna, che ha sicuramente creato un problema a tua madre che poi ha scaricato su di te. Siamo tutti una serie di traumi ereditari che vanno indietro fino a Eva, che aveva voglia di frutta quando le era stato detto di non mangiarla, e sai quanto le avranno rotto i figli? Mamma, una cosa dovevi fare, ecco, per colpa tua non siamo più in paradiso, ti odio. Una situazione così. Scherzi a parte, non vorrei aver offeso qualche valente credente, ma pure Adamo e Eva avranno avuto qualche scherzo in famiglia, no? Il mio discorso è che se le prime persone che impariamo ad amare sono la nostra famiglia sono conseguentemente anche le prime che odiamo. Specialmente in adolescenza, quando è sano e normale che si crei quel distacco che ci permette di sperimentare e sperimentarci. però ha la veneranda di quasi 45 anni. Ho proprio capito che alla fine per imparare ad essere felici dobbiamo imparare ad amare i nostri genitori, i nostri fratelli, le nostre sorelle, le nostre famiglie e il luogo da dove veniamo perché fanno enormemente parte di noi e amare loro significa amare noi stessi. La famiglia è qualcosa che si sceglie. è un qualcosa che ci capita ma scegliamo noi e la famiglia si costruisce non necessariamente perché tu sei mio padre, tu sei mia madre e quell'amore è scontato. No, purtroppo no. Come ogni sentimento si costruisce e la famiglia è dove ci sentiamo a casa nonostante tutto. Le nostre madri ci faranno sempre incazzare tantissimo e spesso diranno e faranno cose che ci feriscono enormemente ma non lo fanno con quell'intento fanno semplicemente del loro meglio come facciamo tutti. La lezione di Onward è quella di trovare il nostro ruolo nel mondo e nella nostra famiglia perché c'è sempre un posto per tutti ed è nostro diritto occuparlo e quando lo avremmo fatto riusciremo ad amare e farci amare un po' più facilmente. E sì, avremmo fatto un piccolo passo in più verso la felicità. Spero vi sia venuta voglia di guardare Onward magari con i vostri figli o con i vostri genitori o comunque con la famiglia che avete scelto. Io vi do appuntamento al prossimo episodio e mi raccomando guardate sempre cose belle. Grazie a tutti.